Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove c'è un chilometro di coda per lavori tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno. Possibili disagi per i lavori di miglioramento della sicurezza anche tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. Il traffico invece scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale Toscana. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata tra San Casciano Nord e Firenze in pruneta in direzione Firenze. Sulla stradale 1 Aurelia scambio di carreggiata tra Grosseto Nord e Grosseto Est in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana Info è un servizio e un collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!